Musica Ciao a tutti sono Isaac E siamo qui su Metro 2033 Mi sa che questa è una delle ultime parti Proprio penultima credo Lo vedremo adesso Dove stai andando tizio? Come si chiama a proposta? Olè video Wow Ah non è un ascensore questo Proprio bisogna farlo a mano? Grandioso Ah è grandioso Ok quale contrapeso Ah ok Ok Sembra facile Si dai sembra facile Avanti Forza strozzo Avanti Olè Sei un genio Non è che ci schiacciano i cosi Sono mito Oh no Non sarà una passeggiata Ecco E io cado dentro l'ascensore Grandioso No cado fuori Wow Come ci siamo finiti qui? Sparato fuori da una scena Oh mio dio Guardate che razza di roba Presa malissimo Mosca Come ci sono finiti qua Versaglio Sono caduto da qui Ah qui Ah qui Grandioso Demoni Oh 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 Qui non ci puoi entrare Vero? Ah no No Posso spararti? Credo di no Ah posso salire sopra? No Devo sparare Vai via Bravo Lo so Non sono a cerco Cerco un modo Qui c'è un modo Da notare come sto dicendo Che modo è una specie di nome In realtà è un metodo Che cavolo Sto qua mi segue Corri dove? Oh no Steam Ti odio Ecco Steam ammazza la gente Ci mancava proprio la morte Allora Qual è il bersaglio? Non ho capito io Quello? Nascondiamoci Ok Posso usare Oh ma Non ho munizioni Mamma mia Ho finito anche questo Muori 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 Ah beh Non serve Sprecare munizioni Credo Fa due tre tentativi Così perché È un hub Poi scappa via Eh sì Ciao ciao Ok Meglio andare Allora Questo sembra un labirinto Però mi sa che devo andare di là Olè Dai Dai Sparali Ok Ah Medikit Maschera gas Interessante Non mi interessa Oh no Giù 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 Dove devo andare Giù di qua No Stavo per buttarmi Tutto a posto Aspetta Devo stare attento Ok Via mirror Sage time Su Arrivo Hunter Hunter Chiunque tu sia Io non lo so Siamo quasi in cima alla torre Interessante Dove cavolo sei Eri sopra di Eccoti qua Come ci sei finito qua Sopra a proposito Rispondi Orman Abbiamo respinto dei demoni Continuiamo a salere Oh no Oh no 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 Rispondi Miller Spar Artyom Artyom Miller Rispondete Sì Ho ucciso un demone Stai bene? Oh mamma mia Sempre grave Rispondi Orman Oh Guardate che razza È vero Ormai siamo alla fine del gioco Possiamo usare i super proiettili Ah dobbiamo Guidare i missili All'impatto Ti porto un tè dopo Potrebbe farti bene No sai Bevi il tè E la gamba Guarisce Andiamo Dove Devo andare di qua? No Giustamente Mi sa che devo andare Qua Infatti Da tutta l'altra parte Ok Non mi piace St'ascensore Credo che Aspetta posso rientrare Ah no Mi sa che quella lì è la Qui è da Sì è da dove è sboccato fuori lui Ah ecco qua Guardate Che mi sembra tanto il finale Di Modulo F3 Anche se non c'entra praticamente niente Vediamo di qua Ma Comunque sto Proprio ora 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 Sto scaricando un altro gioco Che ovviamente Let's Let's player ero Non so neanche se è un verbo esistente Però va bene E Dovrebbe essere abbastanza interessante Ok Potrei Risalire Aspetta Sono sicuri che devo andare da sta parte C'è una scala lì Ma non so se è questa che devo proprio Vai proviamoci Sì è questa Bisogna la rischiare Oh no Oh mamma mia Eh aiuto Aiuto Sali su Velace Su Ma che Ma che razza di scale sono Si cadono a pezzi Altro che Immobili Caramelle No Che cosa c'entra questo Ok Oddio Casca tutto a pezzi È stato fatto dai cinesi anche questo Ok Da qui su Sembra tanto una torre Eiffel però Torre Eiffel cinese Mi pare che l'abbiano copiata Cioè hanno copiato anche quella Ah Ma cosa c'è Questi sottofiltri Pregniamoli dato che sono Poco utilizzo Guardate quanto sono stretti Sti What Di chi sta parlando Guardate che bello il mirino Non serve a niente Che cavolo Sta succedendo Sembra che uno abbia paura Di morire Vuoi vedere che è il Bigfoot Che dobbiamo ammazzare Come basso finale Oh Dove sei? Merda C'è un altro Demone Io non riuscirei a farlo Fuori senza rallentatore Mi serve Rallentatore Se no non riesco Rallentatore Alla Questa Questo pezzo Sembra è stabile Ma noi ci andiamo comunque Ok Siamo in cima Quanto manca? What? Che razza di torre è? Siamo già abbastanza Guardate quel posto Diamo È strano Volete vedere che è quel coso là Che genera tutto sto schifo? Di qua Questo pezzo mi ricorda tanto Quello che facciamo Che abbiamo fatto con Ash Una via secondaria No devo fare così Ok È Parkour estremo Ma che cavolo è successo? Prendi rapidamente Tutto a pezzi Cade Evviva Per fortuna che sono russi Precisini Dai Premi Sì sto premendo E Su Su Ancora Vai Cade anche la neve La natura cade a pezzi Ancora col coltello Tagli la neve Pensavo che usassi il coltello per No Vuoi spaccare anche qualche Stalattita? No No Quelle no Lasciamole così Per ricordo Sì è da un'ora che sto premendo E Mi si sta consumando la tastiera A posto? Devo ancora premere E? Magari che ne so Inciampa Ecco Alleluia Ho un filtro Posso spaccare la roba Eh no Qui si taglia adesso Allora dunque Dove devo andare? Ah Mi scala Non l'ho notata Chi? Oh Quanti sono? Eh Cosa devo fare? Eh Non ho capito Cosa siano quei cosi Sono degli esseri misteriosi Secondo me Sono Quelli che ci hanno invaso In pratica Sono Gli alieni Che ci hanno invaso Cosa c'è qui? Wow Ah E so Flama Ecco cosa Ha disegnato il laser Sì E allora Basta mirare No? Dai Dai miriamo Battlefield 3 style Ah Pensavo un po' Ciao Ho un compagno Il segnale è perfetto Tieni duro ancora un minuto E li becchiamo Oh no Questo minuto so che sarà fatale Oh no Non sta No 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 Ti fermeremo What? Non bisogna Oh che figata Da questa parte Perché è l'unico pezzo Senza cucco Infatti Infatti Non è che mi fidi tanto Andiamo di qua Di qua Diamine cosa diamine Mi hanno fatto bere quei tizi Ok Oh no Oh no 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 Questo fare Questo fare Vai via Corri no Aiuto What? Assassin creed Ecco sono carrollato Adesso si sono Ti fermeremo Che cavolo What? Niente di niente E? Andi qua Che Io questo Non sto capendo cosa sta succedendo Io Io seguo la strada e basta Sembra tanto uno di quelli adventure Uh Ah Aiuto Corri Ah si può correre Che bello L'abirinto di Harry Potter Eh No devo tornare indietro Ah Artyom Sì sì Ti sta stendo male È tutta colba tua eh Io Io non C'è una lucetta bella Ah Ma che cavolo Ma questo ha fumato roba forte Scusa Che che Fino un minuto Quanto devo girare adesso? No Magari Dopo un po' si ferma Devo andare di qua Sembra tanto interessante Ah devo fare un giro al contrario Mi sa Ecco Sembra tanto Quel giochino Eh Ma Sembra tanto Quel giochino Là senza senso Che Che Le stanze Continuano a cambiare Non mi ricordo come Test chamber Una roba del genere Eh no 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 Devo andare a salvare Questo qui Il tè Il tè lo vuoi? No 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 Che cavolo Oh Qui va a finire male Ecco sono morto Ah mi sa che abbiamo le vite Abbiamo le vite Oppure dobbiamo scegliere Boh io non ho capito Con che criterio Devo scegliere Sta roba però Ok di qua Quindi noi dobbiamo andare Indietro Infatti No 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 aspetta Dobbiamo andare avanti Fare un giro E poi tornare indietro Ma Non ha senso Ok ora Torniamo indietro Eccolo qua Veramente È difficile Capire Ahà Di Di Arrenditi Ok adesso tu Il tè te lo bevi da solo Andiamo da questa parte Praticano Wow Wow What the Boh Non mi ricordo come si chiamava quel gioco Però sarebbe interessante Ricordarmi il nome Che adesso non mi ricordo Devo saltare Gna Gna What Oddio queste qua sembrano le metro Corri Scappa c'è Il Bigfoot Il Bigfoot Dai genera mondo Genera Sembra tanto Il mondo di Minecraft Andiamo dritti Perché io storto Ehi somancino Devo andare di là A sinistra No ma aspetta C'è l'altro tizio Che sta dematerializzando il tizio Andiamo avanti Tuco Ah No Sbagliato Sbagliato No 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 Io non capisco perché si butta Questo è bello però Ok 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 Dobbiamo rifare Allora Dobbiamo seguire una combinazione Quindi andiamo dritti Dritti Poi sempre dritti E poi dobbiamo girare a destra Ah Maledizione No non fermo niente Tra l'altro Quel tizio Non ho mai capito C'è Non c'è più È sparito Ok di qua Non bisogna Per me Poi Ok È venuto Per distruggerci Uh Mamma mia Mamma mia Ah Ah Il problema è che il mouse Continua No Lì vedo il rosso Guarda qua Il problema è che io col mouse Vedete Vedo C'è Come si chiama Il Non mi ricordo La fluidità del mouse Quella che c'è anche su minecraft Oh lì c'è una fine Corri Corri Ah Sei ostile Va ucciso Chi è? È venuto Per distruggerci Ah beh Una frase Per ucciderlo Sei morto Per me Ah Non ci vuole un colpo Ah beh Due o tre colpi In più Oddio Sembra Voldemort Non bisogna Per metterli Ok Ho finito i colpi Ah Bomba Quella da dove è apparsa What? Procedura di guida Completata Uh Il sofflo Ma finito Cioè io Il boss finale Ere Evitare di Buttarsi giù Come un idiota Eh No Ok Dovrò andare a leggere Qualche Boh Non so Dovrò andare a leggere Cosa cavolo è successo Perché non l'ho capito Uh E quei missili Della D6 Davvero Sono così lontani Wow Quindi La parte nemica È quella lì In fondo Quella rossa Ecco che adesso Stiamo per bombardare Sembra la mappa Moon Di Black Ops Boom E qui ci siamo noi Sì Puoi anche riposarti ora Oh c'è un WSS No Amo il WSS Colui che muove guerra Per amore del prossimo Sconfiggerà I propri nemici Ah Io ho condotto La mia guerra Per proteggere La mia famiglia I miei amici E la mia casa La metropolità Avevamo vinto Ma oggi mi domando Quando abbiamo annientato I tetri Non abbiamo forse Perso qualcosa C'è qualcosa dietro Tutto sto casino Però non sono riuscito A capire cosa E questo è il problema Ok Metro 2033 Sta per uscire Metro Last Light E purtroppo non potrò Comprarlo a 49 euro Credo che aspetterò Anni luce Prima di poterci giocare Sì Piuttosto bello Come gioco Se fosse più Facile Capire tutta sta storia Qua dietro Il personaggio Queste cose qua Perché di sicuro Nel libro È spiegata meglio Credo che possa Essere anche meglio Che possa essere Un'invidia Ciao Credo che possa essere Anche meglio Come gioco Se avessero spiegato Tutta sta storia Qua Pensieri Che faceva il tizio Sta Ultima frase Che abbiamo perso qualcosa Uccidendo i nemici Boh Non Una cosa che non si è capita Nel videogioco Ma scommetto che Nel libro Si capisce Meglio Si capisce di più A volte io mi bloccavo E a volte era veramente Molto difficile andare avanti Tipo la parte Con le palline verdi Lì potevano anche Migliorarlo Ovvero Semplificarlo O ad esempio In alcuni punti Non sapevo come andare avanti Potevano Che ne so Far vedere meglio La strada Da percorrere Oltre a darci Quella dannata Bussola Che Non so Perché continua A Sì A cambiare direzione Va a destra A sinistra Dovrebbero puntare Solo a nord Ma loro puntano Dove cavolo vogliono Dunque Metro 2033 Prossimo gioco Che let's play Lo vedremo Ci vediamo Alla prossima Ciao E alla prossima E Ciao THQ Che purtroppo Ha fallito E Ci ha lasciato Questo gioco Che Cioè diciamo Dovremmo ringraziarlo Un po' Dato che Purtroppo Non c'è più ora È morta No È semplicemente Che è andata in mancarotta E quindi è fallito Vabbè Grazie THQ Per Metro 2033 Beh Metro 2033 Noi ci vediamo Alla prossima Ciao E alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima